Pacchetto numero 18 Manca pochissimo a Natale e non avete ancora trovato il regalo giusto? Vi aiutiamo noi, siamo Margherita e Giulia e abbiamo un sogno nel pacchetto per tutte le bambine che amano il mondo Disney Frozen e le principesse Disney Ciao! È arrivato un messaggio Io e mia cugina Ludovica ci divertiamo a costruire i castelli delle principesse Disney con quel che troviamo Io vorrei regalarle un castello vero Pacco pacco del mio Natale! Ecco il regalo perfetto per costruire un palazzo reale! Il castello 3D Ravensburger delle principesse Disney è facilissimo da montare e il risultato è eccellente Si può montare anche in cameretta Con questo regalo tu e Ludovica avrete finalmente un posto dove giocare con le vostre principesse preferite Ecco qui Desiderio Express in arrivo, ci vediamo al prossimo sogno nel pacchetto! Ciao! Pacchetto numero 19 La mia nipotina Gemma conosce tutte le scene di Disney Frozen in Il Regno di Ghiaccio a memoria Vorrei un regalo che le facesse vivere le atmosfere del film dal vivo Pacco pacco del mio Natale! Ecco il regalo perfetto per... La favola far continuare! Il castello di ghiaccio di Elsa Lego è divertentissimo da montare È super accessoriato, ci sono tutti i personaggi di Disney Frozen e tantissimi ambienti in cui giocare Con questo regalo le atmosfere del Regno di Ghiaccio prenderanno forma davanti agli occhi di Gemma Che potrà divertirsi a giocare con i suoi personaggi preferiti in un mondo magico Ecco qui Desiderio Express in arrivo, ci vediamo al prossimo sogno nel pacchetto! Ciao! Pacchetto numero 20 Mia nipote Alessia adora i vestiti che le ricordano il suo film preferito Disney Frozen, il Regno di Ghiaccio Cerco qualche novità per lasciarla a bocca aperta Pacco pacco del mio Natale! Ecco il regalo perfetto per... Vivere una favola glaciale! Questo vestito di OBS è ispirato al nuovo racconto Disney Frozen, le avventure di Olaf In cui vedremo le peripezie di Olaf alla ricerca delle tradizioni di Natale Con questo regalo sorprenderebbe Alessia che potrà sfoggiare un look Disney Frozen mai visto prima Ecco qui Desiderio Express in arrivo, ci vediamo al prossimo sogno nel pacchetto! Ciao! Pacchetto numero 21 Mia mamma adora passeggiare anche nella natura, come Biancaneve Vorrei farle un regalo per farla sentire una principessa ogni giorno Pacco pacco del mio Natale! Ecco il regalo perfetto per... Camminare ed esplorare! Le scarpe Asics sono comode e fashion nello stesso tempo Adatte ad un'escursione nel verde o un giro in città Con queste scarpe tua mamma avrà un look romantico da principessa O grintoso da strega E tu potrai divertirti a scegliere tra i modelli dedicati ai setterani Sarete troppo alla moda! Ecco qui Desiderio Express in arrivo Ci vediamo al prossimo sogno nel pacchetto! Ciao! Ciao!